Sì, buongiorno, sono Stefano Travucchi, anche quest'anno partecipo a Mondo Musica, è la mia diciannovesima partecipazione, è sempre un salone interessante, molto vivace, come si vede dalla tanta gente che sta passando. Quest'anno presento un violino particolare, Violino Italia, che è stato pensato e realizzato in collaborazione con un mio cliente che me l'ha commissionato, ho voluto mettere nel simbolo contornato dalla corona dall'oro, il colore italiano, con il simbolo di Cremona e il braccio di Giovanni Ibaldesi, quindi quest'anno è un po' il mio highlight per il mio stand. Anche le fasce sono decorate con foglie d'oro, poi ho anche altri violini, sempre di mia produzione e dei violoncelli, quindi anche quest'anno aspettiamo tanta gente e viva Mondo Musica!